Nel cuore dell'epicentro dell'ultima scossa, nel deserto di Seggio, le frazioni di Pieve Torina, il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie ha resistito, anche questa volta aspetta di tornare a fare il suo lavoro. Rimane in maniera stoica al suo posto, con dei danni che raffrontati rispetto a tutte le altre chiese viste del circondario, sfigurano. Non penseremo nemmeno che sia una struttura che è proprio sopra quei nove chilometri di tremore che non ci danno pace. Giovanni Falaschi è al fronte da un anno e mezzo. Solo qualche mese prima del 24 agosto 2016 era stato assunto per la cura dei beni architettonici della Diocesi di Camerino. Dalle prime scosse l'ufficio dei beni ecclesiastici è diventato ufficio sisma della Diocesi più colpita in assoluto. Delle 520 chiese del territorio sotto la responsabilità di Francesco Giovanni Brugnaro, vescovo di Camerino, sono 350 quelle lesionate, il 70%. La mappa del PC fotografa il dramma. Le chiese in blu sono tutte le chiese che hanno riportato danni a partire dal 24 agosto, 30 ottobre e successivi. Chiaramente con l'ultima scossa stiamo riaggiornando la situazione per l'aggravamento dei danni, soprattutto appunto nelle strutture che si trovano qui in prossimità dell'epicentro dell'ultima scossa. Lo stoicismo di Santa Maria delle Grazie emerge di fronte a tutti gli altri crolli. L'ultimo Santa Maria di Varano, Muccia, prima Santa Maria in via a Camerino, sono i simboli oltre i numeri e sono soprattutto anticipo di quello che sarà. Non ci saranno case senza chiese, non ci saranno chiese senza case. Valutiamo insieme quello che succede sulle chiese per avere anche un metro di cosa può succedere per le case. Chiaramente la chiesa è un simbolo di una comunità, ma se il territorio non è più popolato, non avremo più comunità e quindi non ci sarà più un'identità che possa attestare e valorare il senso contemporaneo di queste chiese.